Si dovrebbe sentire bene, quanti anni hai? Ne ho 20, quest'anno ne faccio 21 E il mio compleanno è quasi indimenticabile perché è anche un giorno di festa Eeeh... nel primo maggio, quindi la festa dei lavoratori Perché il vostro hero giustamente ha fatto anche altri lavori prima di fare YouTube E ne vorrebbe fare anche altri se ha l'opportunità che gli piacciono ragazzi Io volevo fare il fornaio Nessuno mi ha fatto fare il fornaio, e la gente dice ma perché volevi fare il fornaio? Cosa c'è di più poetico che alzarsi la mattina, fare il pane No, di alzarsi la sera, andare a fare il pane per la mattina e poi la mattina andare a dormire Cioè immaginate quanto è bello, non c'è nessuno per strada Nessuno che ti chiede cose, solitario, è bello, è quanto poetico Eeeh una candela! Ma è la porta due! Ok, meglio non consumarla, mi potrebbe tornare utile anche nelle rooms credo Io lo salutami, ciao, ciao Sono quasi in 300 ragazzi 400 da un biscotto tutti No, 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 no Mi rimanzo tutto Dopo quella sì che pubblicità è ingannevole Non posso dare 400 biscotti So fare i biscotti ma non posso dare 400 biscotti raga Troppa roba Comunque questo è il mio bel fazione Che mi sono fatto anche la barba Mi sono fatto anche un po' male a dirla tutta Perché sì ragazzi ho 20 anni ho la barba come qualsiasi maschio di 20 anni Che ha sviluppato barba Perché c'è anche ragazzi che chi non lo sviluppa I... sono i... i coreani I coreani che non dovrebbero sviluppare tanta barba Cioè c'è anche chi non la sviluppa proprio Alcuni addirittura hanno un gene che gli impedisce di puzzare con il sudore Incredibile Ragazzi la genetica Facciamo lezioni di... di scienze oggi anche Il vostro libro è un appassionato di scienza E di astronomia E di tante co... e anche... Come si chiama quella che studia i mostri mitologici? Tipo il Bigfoot Vabbè c'è anche una... una pseudoscienza anche per quello Cosa mi sono perso? No niente parliamo di cose Ah è vero la chiave E... io mi dimentico le chiavi Nulla di... Ah! Vedi dov'era? Ciao Grid C'è il quadro Salutiamo Allora Buongiorno anche a te Rush Si è offeso perché ho salutato Grid e non lui Di quanto si è brutto Oh! Ok Ho visto anche la live ieri dei... 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 Ciple... Ci... No come si dice? No seriamente parlando Two player Two player One, two Two player quindi One, two, three, four Si E... Ho visto che c'era anche Roby C'erano anche tre persone che ora mi sfugge il nome Che avevano fatto d'orso effettivamente No Roby... Roby è venuta dopo È venuta dopo in live lei Comunque avevano fatto d'orso Mi sento onorato Che in Italia Molto probabilmente Se non sicuramente Sono il massimo espositore Diciamo di d'orso C'è quello che ha fatto più video È live Quante live ho fatto di d'orso? 3, 4? Non lo so Non lo so Volete più live ragazzi? Non insultare Rush Ma è brutto A me non piace Porta anche Roby No Lei è molto occupata ragazzi Lei è molto occupata È una ragazza molto occupata Quindi Cerco di non stressarla molto Le voglio bene Vorrei bene anche No Guardi in light A te non ti voglio bene Sei arrivato dopo L'ho già trovata la chiave Ti ringrazio ma No aspetta Però dove è l'altra porta? Non c'è dupe vero? No ok di qua C'è solo una per ora Dupe a che A che porta inizia ad apparire? Ma io pare Il quadro l'ha perso dopo Ma lasciamo stare Mi sono preso un colpo Chi è? Avanti Ehm Ma E questo è anche troppo in là Ok Va bene Nessun evento da visualizzare Streamlabs Non mi salva Gli eventi Cioè qualcuno si iscrive Voglio dire qualcosa Nessuno mi dice niente Ok qua c'è il mostro Solito trucco ragazzi Per chi ha visto Come vincere su dors Questo è uno dei trucchi Che ho insegnato Insieme a tanti altri Quanti ne ho insegnati? Un botto mi pare Ma non c'è niente che cade Cioè la cosa migliore Sarebbe quella di ricordarsi Sarebbe quella di ricordarsi La porta Stavo quasi per entrarci Sarò sincero Allora tocca che prendo Un pochettino di soldini Raga Prima della porta 5251 Si può rispondare Nelle rooms Spero di sì Perché in caso Un po' di robux Che potrei utilizzare Allora Comunque ragazzi C'è anche il mio gruppo A proposito di roblox Ma in faccia mi sei arrivato Ok Ma va bene Nube di puzza Ma mi pare roba Funziona la candela Iero L'avevo scoperto Ma non so se funziona Il Il crocifisso Ehi sì No Iubilike No Seriamente Che cavolo Ma vado a prendere un colpo Cioè in faccia Ma spawn Ho mi spawnato Tra i muri Nelle scale In faccia Non mi è mai capitato No Forse una volta Grazie Si è appena Iscritto Ok Quello lo riesco a vedere Abbastanza in tempo Grazie per le iscrizioni Ragazzi Se volete far donazioni Fate Chiedete ai genitori Se non avete una carta di credit Quello che vi pare Raga Io non chiedo niente Chiedo solamente i like Che è gratis E chiedo anche Che gli armadi Non cadino Una volta tanto Ok Fammi prendere i jumpscare Scusa rush Scusa Per chi l'ha sentito C'era un rush Ok Questa era quella giusta Metto un po' di musica Ragazzi Tratto uno extra Ok Vediamo un pochettino Che dite Metto un po' di musica Tipo quella delle speedrun Faccio una speedrun No quella è sonic Vero Con calma però ragazzi Dov'è? Ah Ha fatto Ha fatto il giro lungo Ok Anche il crocefioso Non funziona Lì non funziona Non funziona Ah Vedi Vedi c'era sempre La fregatura Ah la metto un po' di canzoncina Ok Si dovrebbe sentire poco Ma è il sufficiente In realtà Vorrei vedere qualcosa Il sufficiente Ah un accendino Io ovvero Questa canzone Non dovrebbe avere copyright Forse ho fatto una cavolata A mandare avanti Rush Ora è diventato tutto buio Non vedo niente Ah Rende molto di più La canzoncina Lo ammetto Ragazzi E poi anche Sperimentato scientificamente La musicoterapia Ovvero Attraverso la musica Grazie a tutti quanti Quelli che si stanno iscrivendo Ragazzi Non ho due schermi Quindi Sono anche mio Perché faccio fatica a vederlo Però grazie a tutti Perché Ce l'ho sul telefono Il secondo schermo Devo cambiare già il mio schermo base Ragazzi Quando avrò un po' di soldini Lo farò Comunque dicevo La musicoterapia ragazzi È strabiliante Cioè Con la musica Ti puoi Diciamo Aggiustare l'umore Comunque Sei più propenso A un certo tipo di umore In base al tipo di musica Addirittura ti puoi far La musica ti puoi far Riaffiorare i ricordi È qualcosa di fantastico E adesso ci sarà questa musica Con SICK Invece della sua No è un mix Abbiamo fatto il remix Sei scusa No Non voglio niente Però SICK SICK Ma c'era un occhio Sopra un occhio Ok Il re degli occhi Guarda che strani Ok Ok Andiamo Andiamo Di qua Candela Ci sono dei mostri Ti sei spenta Ok Andiamo Ciao bello Cammini un po' storto Anche te Anche penso di camminare Un po' storto Ragazzi Probabilmente ho un problema Alle scarpe Sì Sono argomenti che magari Non vi interessa tanto Ma è giusto per Raccontarci qualcosa Ragazzi Nei video non parlo mai Di me o Esperienze Cose Lo faccio solamente in live Siamo in 481 Raga Grazie È quasi bloccata la chat Quindi finora Non ho letto niente Mieticondors Amico mio Allora Io personalmente Non posso aiutarti Ma anche aiutarvi In generale A giocare Non sono uno che gioca spesso Di per sé A Roblox C'è il video C'è il video Dove spiego i trucchetti Proprio come vincere Su d'orso Ok Perdiamo qualche soldino Ho perso Lo senso D'orientamento Poteva essere Dupe Io non avevo La più pallida idea E basta Ancora Andiamo di qua Andiamo sul sicuro Mi sarei potuto Nascondere nell'angolino È vero Però Voglio provare Aha Vada qua Il piccolo tesoro C'era Allora Non voglio consumare 525 adesso Manco legge Ragazzi Non posso Fare Un occhio Qui Un occhio Qua Faccio Come faccio Ragazzi Mi accetto L'amicizia ragazzi Non posso Non riesco a sconfiggere Figur Adesso ci arriviamo Ci arriviamo ragazzi Vuole il tuo autografo Ma quello sempre Non gliel'ho mai dato Perché è scortese Cioè immaginate voi Che siete a un raduno Ok Tipo quello di Roma L'1 e 2 aprile Del romix C'è terra d'uno E arriva un tizio Che corre Spingendo Tutti gli altri Che magari erano In fila prima Ecco Questo qua era in fila prima Si era avvicinato Hai visto Quanto era in fila Cioè immaginate Sta cosa Scortese Anche te sei scortese Però Allora Quanti soldi ho? Abbastanza Ma non tutti quelli Che mi servono Per sconfiggere le rooms Cioè il fatto è che Nelle rooms Se davvero esistessero Ma un pacchetto di Cre Ma quando è che Non mi capita Alt Il fantasmino Di Pacman Ok Andiamo Ce la possiamo fare Concentrati ragazzi Andiamo Sinistra e destra Su Non sinistra e destra Su e giù Su e giù Ok vai Vai che ci siamo Ciao Alt Sayonara Zitta luce No mi ha fatto paura Stavolta Ok me l'avevo visto Ok ora dovrei No Devo trovare per forza Dei cerotti raga Se vado nelle rooms E mi prendo danno Da A 90 Muoio Con questa poca vita Lo trovo per forza Dei cerotti Cerotti? Ah no Questi No i lockpick Me li devo tenere È vero Dove cercare Trovare i lockpick Oh Ho parlato E Di conseguenza Cerchiamo di controllare Bene in tutti i cassetti È vero Me ne manca uno Di lockpick Allora probabilmente Lo troviamo ancora Abbiamo ancora Possibilità di trovarlo Non dovrebbe essere Troppo un problema Non sono neanche Troppo Troppo rari Forse mi capitano Ste stanze Dove non c'è loot 49 49 Lockpick Non so se lo troviamo Che ogni volta mi scordo Che ci vogliono anche I lockpick Per andare nelle Nelle rooms Speriamo che Jeff Ne abbia uno Spero questo Quindi tu dors Quattro volte Giuro Beh quattro volte Dai ci sta Ottimo risultato Cioè una volta Che impari Com'è Non è troppo difficile Dopo Quattro volta Cioè si riesce bene Ok cerchiamo bene I libri Quello è andato di là E noi allora andiamo di qua Eccone qua un altro E sento anche un altro Ok dall'altra parte Qua non ce ne stanno Ok si sta avvicinando Andiamo per i fattacci nostri Ok Non ho preso niente Giuro Non ho rubato Continuiamo a rubare Incredibile come lui Non sente i cassetti Ma senti se Fai un passo Ti fa rumore i cassetti Quando li apri Teoricamente Ciao figur Ti apposto Torna indietro Sì ma è abbastanza ubriaco Che ha da farmi passare Da che parte vuole andare adesso Sto testone Di là Ok 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 l'ho reso solamente più veloce Bisogna stare attenti ragazzi Eccone qua un altro Mai che trovassi un lockpick Non faccio in tempo Di qua di qua di qua di qua Silenzio ragazzi Silenzio Silenzio Ha finito Potete Potete scrivere di nuovo Io puoi Poi buggare figure Ma in realtà si è buggato Non so quante volte Con me Ma Mi spuo spontaneo a volontà Ok Dovremo aver finito quei libri Sì non sento più rumori Ci mettiamo qui dietro L'angolo sicuro Allora Abbiamo Zero 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 Buggare figure Beh non è troppo un problema Bella fratelli I veri gangster Questi sono Un uomo Folletto strano Un tizio che è diversamente vivo E' quel che vuole andare al college Non lo dica Ai 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 Allora questo ce l'hai Molto bene Prendo questo per sicurezza Eh no Questi hanno già tre La torcia Mi può tornare utile Ti lascio Una mancia Ciao bello Eeeh Tocca trovare L'ultimo grimandello Poco da fare Ecco Ecco Magari qua potrebbe spawnare Perché ho Molti item Sì Sì Il calcolo Delle probabilità Il mio prof di matematica Aveva ragione Studiate le probabilità A matematica Le superiori Ragazzi Quando farete le superiori O se le fate Studiatele A questo servono A giocare su doors Pupupu Non sembrare una cosa utile Ma vi giuro che le probabilità Sono utili Studiatele Sono tutti pazzi Anche io Anche io Trovato Ok 56 Dovamo essere vicini Alla Stanza distrutta Un soldino Finito gioco 21 volte Grande Mi fai troppo ridere Anche a me Io all'elementare Anch'io l'ho fatta L'elementare Ragazzi Ci sta Va bene anche quello Quando crescerete Porta 57 Andiamo indietro Allora Accendino Tanto non mi sarà utile Nelle rooms Quindi lo posso anche consumare Ora E la porta vera Ma questo è un tesoro Ok Molto bene No dove Ah Luce Vai via te Ok Ok qua inizia a essere tutto distrutto E malmesso Dov'è quella stanza Va Eccola Ci siamo Dovrebbe essere di qua Allora Di conseguenza No andiamo di qua E dobbiamo cercare la leva Oh no Vabbè Ho preso una torcia apposta Da che parte Da che parte Ambar Baci Cicco Cotra E ci vette sul comodi qua Beh Schifo Ok Chiudiamola qua Per esparmiare giusto due secondi di batteria Ah No Non è qua Ho trovato dei soldi Vedo che niente Allora Non è di qua La conta Ha finito Di solito funziona sempre Ehm No No Apriamo di qua Niente Vai via Sto appunto negli occhi No Sono tornato all'inizio Mi sto perdendo E sono solo l'inizio del labirinto Il mio senso d'orientamento fa schifo Ho una ragione i miei amici Mai lasciar guidare me Ci perdiamo Allora Cos'è questo posto? Sento di essere vicini Anche perché questo cassetto non l'ho aperto Dov'è quella leva? Aha Ah no Questa è la porta Vai via No vi giuro che non la trovo L'ho sorpassata? Io non ho mai vinto Io vabbè dai Avrai Il tuo momento di brillare Oh ancora Una bottola Va bene andiamo di qua Soldi Dov'è quella dannata leva? Scherzi te la sei mangiata? Ma è l'unica soluzione C'è stato lui finora Aspe Aspe Di qua c'è questo Quindi se facciamo fare Al guiding light Guiding light Ma vai via Motivi per cui odiare le stanze buie Ok Riporo vandare di qua Guiding light La mia mano Aha Aha Ho l'unico spazio in cui non ho controllato Pov quando scriccia fame No questo sono io Pov Cerco di andare alle due di notte A farmi un panino E c'è mia madre sveglia Cioè è così la situazione Vai di soppiatto Nell'oscurità Non vedi niente C'è una torcia No la torcia no Può usare il telefono Eccoci qua Allora ci siamo A00 Inizia L'epopea E' questa Andiamo Non ci fa paura niente Tranne A60 Allora Stacco la musica Perché devo Tenere gli occhi Ben aperti Gli occhi ben aperti E tu dici Se devi tenere gli occhi Ben aperti Perché stacchi la musica Che ho rechiusi le orecchie Perché ho bisogno anche dell'udito Anzi Forse anche più degli occhi Vediamo un po' A90 Vediamo se Speriamo di farcela Buona fortuna Anche perché Non credo che farò Altri tentativi Però ce la devo fare Cioè Io vi giuro Il fatto delle rooms Non so perché a me Personalmente Non è che mi fa paura Ma avere questa canzoncina sotto Sì sì La sentite Sì Avere questa canzoncina sotto The rooms Tutto vuoto Tutto uguale E Dover sentire Quando arriva qualcuno Che è un frastuono E' un'ansia assurda Perché te te lo aspetti Da una parte Ma Ma non sai quando aspettartelo Non so se mi spiego Posso comprare un'altra Tra il rifornimento No E poi quei rumori Tutti uguali Soldi per terra Per qualche motivo Allora Questa cosa non funziona Quindi ho sprecato soldi Ma vabbè Questo però funziona Quindi suppongo Che mi dirà Quando Apparirà qualcuno Vabbè Per ora Io ti propongo Di utilizzare queste No Almeno possiamo fare Un tantino più veloce Cioè Essendo che Delle prime stanze Tanto non succede Assolutamente niente E non devo stare attento Tanto vale che Li utilizzo per correre Tanto 60 è troppo veloce Non corro via da lui Non corro via da lui Una pila Ok andiamo Soldini Why not Grazie Chiunque sia Scusate Ripeto Non posso vedere Ok Per il momento ci siamo Abbiamo fatto in poco tempo A 21 Ci sta Beh ragazzi Cosa Cosa mi raccontate Di bello Si consuma qua La candela Raga Si è baggata No Perché non si consuma La candela Nelle rooms Guardate Non cala Non cala Non cala la barra A 60 Tu uccide Se muovi il mouse Lo so Però Alcune volte funziona Alcune volte non funziona Non lo so Non Non so che dirvi Raga Andrew Mi sai dare una spiegazione No Certo che no Allora Ricarichiamo Al massimo La nostra torcia Almeno questa qua Principale Sarà Non dico la prima cosa Che utilizzeremo Ma quando c'è necessità Perfisco utilizzare quella Che sto coso Perché Stai così Mezz'ora No E poi dura Due secondi Sta coso Quanto È orrendo Allungata la durata Vi prego Grazie Allora Io l'ho visto Addirittura Uno streamer Che io Sarei indeciso Se fa Cioè Non lo faccio Perché non è argomento Del canale Però mi immagino Più che altro Una cosa Su doors Ok Questo era A60 Non sapete che faccio Scusate un attimo Ma Disattivo La finestra Degli avvisi Ringrazio tutti quelli Che si iscrivono Tutto quanto Però ho bisogno Di sentire Perché c'era Il bling 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 E c'era allo stesso tempo Il rumore di A60 Non l'avevo sentito Inizialmente Devo stare attentissimo Io Sento un'altra porta Aprirsi Allora Io spero che funzioni Sto coso Come mi avete detto La candela Perché rimane accesa All'infinito Se rimane accesa All'infinito E mi può dire Quando arrivano i nemici All'infinito I nemici I mostri All'infinito È broken È broken proprio Io Certo Compensa il fatto Che sto coso Non funziona Però mi dice Che È più luminoso Del normale Era di nuovo Il rumore di A60 Di demonio Beh ragazzi Che dire Moriremmo Sicuro Voi pensate Che possa farcela Il primo Che non ha fiducia In se stesso Qui sono io Ricordatevelo È brutto Da dire Ragazzi Non ha fiducia In se stessi Eh però Purtroppo In questo caso Sì è così Paura e ansia No paura No Perché paura C'è tutta Altra cosa Questa è Tensione Termina Mi sa che Tensione Ti rimane Teso Da Un'altra Porta Aperta Ci siamo A 60 E qui Signori Inizia Delirio Divertitevi Allora Questo dovrebbe Molta Attenzione Ok Ancora niente Fa un po' Di luce Sì Sei iscritto Da un anno Grazie mille Ma basso lo sguardo Giustamente Ogni tanto Non funziona La candela Ok Non funziona L'avete visto tutti Non è diventata Blu Non si è spenta Non funziona È infinita Ma non funziona Non fa il suo dovere No Non fa luce Non c'è differenza Di luce Qua è tesa È tesa davvero Tanto ragazzi Io ho paura Ma ma anche io Si vede malissimo Iero E Ho un modo Però un attimo Ragazzi Vediamo se ho un modo Per aumentarvi Leggermente Non vorrei Scasinare qualcosa Vediamo un po' Allora Se la qualità Probabilmente Devi alzare Cioè dipende anche Dalla tua connessione In realtà Devi alzare la qualità Soprattutto se sei Su Wipy Credo che lo puoi fare E se invece È questione di luminosità Ragazzi Non vedo niente Neanche Anzi Forse voi Vedete leggermente meglio Di quello che vedo io Vediamo un attimo Se riesco Aumentarvi un pochettino La luminosità Vorrei farvi vedere Qualcosa di più No Non so come si fa Da qua Non è il mio Solito programma No No Catture No 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 E no 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 Non so come si fa Ragazzi Mi spiace Cercherò di tenere La luce accesa In questa maniera Così ci dovremmo vedere Entrambi Sento che dovremmo avere Più o meno La stessa cosa La stessa luminosità Io non andavo davanti Col cavolo Perché qua Tocca andare per forza Al piano di sotto Io non ci vado Al piano di sotto Cioè ci metto troppo tempo È uno scam assurdo È un'altra pila va È gratis Cosa che io vorrei provare A tenere il croce fisso in mano Magari non quando arriva a 60 È che a 60 È letteralmente giocare col fuoco Magari provare contro la 90 Magari funziona solo contro alcuni Non lo so Ok No inizia a fare troppo buio Beh ragazzi Sì Sistemo un attimo Il mio tappettino Eh infatti sì Ho il tappettino di Jojo io Per il mouse Con Jotaro Allora Siamo a trovare Un'altra pila Tra un po' Non sento brutti rumori Avanti Un soldino Ecco qua una pila Le mie richieste sono state esaudite 95 raga Cosa mi sono perso? Qualche mostro Demonio Inseguimenti Nulla di che Tutto nella norma Nel mio canale Succede tutti i giorni Nella vita reale No con le mie madri Con le ciabatte Era 90 L'avete sentito tutti A 100 ragazzi Dai piano piano Ci metteremo un bel po' eh Ciao Lorenzo Ci metteremo un bel po' Purtroppo non ho modo Per andare più veloce Mi installo i cheat adesso Ok Eccolo che arriva Devo andare di qua Pure quello Doppio Combo Ma sbaglio A 90 Capita più spesso Quando stai negli armadietti Mi capita quasi sempre Quando sto negli armadietti E' la mia impressione O è un dato di fatto? A 111 Ho tratto una pila E vai 113 Qual è il vostro record ragazzi? Qual è il vostro record? Lo voglio sapere Non su dors Su rooms Ho fatto un prank Scusate Vorrei prendere quella pila Grazie Più meno 150 Buon risultato 65 A 800 Da 900 Uè Per davvero eh ragazzi Non esagerate Con 1200 1200 Il mio record è stato Che l'ho fatto in video Che sono uscito Quindi 200 Qualcosa Non mi ricordo Ma oggi lo battiamo Oggi mi sento più forte Sono più forte Sono più forte del solito Oggi Ma solo oggi 124 125 C'era un mezzo A 90 L'ho sentito Quando arrivi alla porta 1000 C'è un regalino E ho visto qualcosa Non mi sono spoilerato troppo Però so che c'è qualcosa C'è anche nella copertina Quello che ho visto però Eh vi ho spoilerato la porta Sì L'ho spoilerato Sono malvagio C'è qualcosa Però più che altro Sono interessato all'archivamento ragazzi All'obiettivo Eccolo qua Vedete Capita quasi sempre In questo caso Ok Allora ragazzi Datemi un attimo Di tempo Scusate Due secondi Spengo la luce qui Perché ce ne metteremo tante Non posso lasciarla sempre accesa ragazzi Due secondi Il tempo che Chiudo la luce Sì sarà un pochettino Più buio eh Però magari Rende di più Non lo so Uh Eh sì Questo è Euro senza cuffie Scusate che le metto Ok Fatemi sistemare bene la sedia E ci siamo Questa sarà intensa ragazzi Intensa e difficile anche Dico a 133 Proseguiamo Magari adesso che ho fatto una pausa Si scaldano di meno le entità Non lo so Ok Mi sono ricaricato le pile Io le chiamo pila questa 120 Così al buio mi fa Anche pochettino Allora Sempre rimanere Finché non finisce Perché può tornare Quell'infame Eh un soldino Grazie Ok Con calma ragazzi Allora Qua abbiamo Remy Ciao Remy 141 Ti amo Anche io mi amo Però non me lo dico spesso Me lo dovrei dire di più Ok Vediamo un pochettino 143 Entra 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 ti prego Ce l'ho fatta Ero morto Ero Non me l'aspettavo mai Nella vita Siamo in 1200 No torna Sono stato attento Coi suoni Scusami Ed è spavolato davanti Posso uscire O è un prank Cioè io Io ho paura Io ho seriamente paura No Ho ricominciato la musica Classica Dovrei eserciare Salvo Ok Quello è un finto A 90 Che dire ragazzi Panico Vabbè le dubbi Possiamo andare anche nel frigorifero E non è male Fingermi un surgelato Non si vede assolutamente niente Voi non vedete Neanche io ci vedo Neanche io ci vedo Potesse avere vitamina infinita Almeno Non me l'aspettavo mai Nella vita Ero abituato Solo negli armadi Mi saluti Ciao Michele Se riesco Non si Eh lo so Lo so Ragazzi Ma non lo vedo neanch'io Che Siamo in In 983 Contando me Che che non vediamo Io non me ne esco Da qui Immaginate se ci fosse Hyde Ok Se n'è andato Ok Con calma Miro male Quasi ovunque C'è un armadietto Comunque Quindi Bisogna un attimo Imparare le stanze Mai che ci fosse Una pila Però Ultimamente Solo soldi Mi piacciono i soldi Ma in questo istante Preferrei vederci Una pila Guarda Ho parlato Chiediti Sarà dato Vedi Chiedere il metà Della vera Ragazzi A 160 Ci metteremo Un'epopea Sono un pro Ragazzi Ma non sono Dio sceso in terra Di sto gioco Quindi Potrei morirci Ok Vediamo un po' Se riusciamo Secondo te cosa è peggio A 90 A 60 A 120 Io non lo so Credo a 90 Perché è molto più inaspettato Vedete A 60 Lo senti Lui Lui Non proprio Ok Allora Una pila Dammi qua Ma Creecraft Non mi ricordo Lì è arrivato Ok Era una finta Era arrivata Alla porta 1000 Sapete che Non me lo ricordo Forse si Avevo visto Una clip Lui è in grande Ragazzi Nulla da dire Vabbè parlate Tra di voi Ogni tanto Che fate un po' Di liscizza Anche voi Perché Non posso stare Sempre a leggere Perché sono Molto occupato Con questa cosa Che non si vede Niente Quindi do Concentrare I miei Sensi Ok Ne ho trovato Uno E rimarrò Qui Ok E' andata Bene Anche questo L'abbiamo Superato Credo che sia Una di quelle Challenge Dove Ci metteremo Delle ore Quindi ragazzi Avete Tutto il tempo Di stare qui Ok Nel video Ho fatto un botto Di tagli Ragazzi Qui non posso Non posso Tagliare Raga Proverò Il video Parte Ovvero Prenderò Questa live Taglierò Molto spesso E Caricherò Poi il video Farò così Sicuramente Basta Spam Ragazzi Siamo Quasi Mille Non è che Eccone qua Un altro Eccone qua Un altro Ancora Ok 188 189 Soldi 190 Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio È qua L'ho visto L'ultimo Non l'avevo Visto Sempre guardarsi Intorno Meno male Dove appara A 60 C'è sempre Un armadietto Bisogna solo Tenersi conto Dove Cioè Bisogna impararsi Un attimo Le posizioni Degli armadietti E poi c'è Questo infame Che lui Arriva da Da avanti Non da dietro Se ambush Sappi che ambush A 60 Hanno la stessa velocità Quindi molto elevata Ci metteremo davvero tanto Ragazzi Chi vuole rimanere Può rimanere Se avete da fare altro Andate a fare altro Io non costringo nessuno Perché non posso neanche garantire Che riuscirò Ok Questa è un'impresa gigante Raga Che è che l'ha fatto in live Oltre a me In Italia nessuno Ancora sto tizio Appassionatro Tro Appassionatro Eccolo che torna Eccolo che torna L'infame Che mi sbatte in faccia Mi vuole far brutto No Così fa Con sorriso Fa brutto Capito? Poi tirano Una capocciata Contro Il ferro Lì Dell'armadietto Abbiamo fatto La 200 Tra un po' ci dovrebbe essere L'uscita Ma non è quello Che vogliamo oggi Purtroppo Pila Ok Vediamo un pochettino In compenso Guardate quanti soldi Sto facendo Ok No ma non riesco a capire Se la luminosità Viene un tipo In negativo Non lo so Cioè viene Ritirata ancora di più Ancora Come fai sapere Quando viene Allora 90 Ti fa Il glitch Dello schermo A 60 Lo senti provenire Da dietro A 200 Barra 120 Da davanti E può fare Avanti e indietro Queste sono le cose principali Poi non so se ce ne sono altre Ma non credo Eccola Ci siamo ragazzi Ammirate Questa è l'uscita Ma di qua c'è il continuo Sappiamo tutti come andrà a finire Vero? Morirò Sì Morirò Morirò malamente Oh mio di Dio Se l'uscita Non è che sto cosa esce Immaginate che può prendere l'uscita Io voto il continuo Ma Dobbiamo arrivare Devo provare ad arrivare Fino alla porta 1000 Poco da fare Ok Riesco a trovare Una pila Sembrerebbe di no Ok Non volevo entrare qua Però ringrazio Ok Qua è la parte più spaventosa De c'è sto cosa No Non voglio Sti qua però Dopo mi compaiono le entità Per favore Ho il terrore io Ok Eccolo Ho trovato Gioca d'Ors Questa Beh Sì È Rooms Posso uscire? Ce la faremo Ce la faremo Ce la faremo Ce la farò Paura mamma Non potevo Non fare questa live Andare a mangiare puntuale Non ne trovavo uno Stavo panicando Non ne trovavo uno Stavo panicando Ok Ok Se è andato Donde sta la biblioteca? La biblioteca roja Ok Prendiamo tutto Il problema ragazzi Che quando è così buio È che Tu non sai la stanza Che c'è dopo Perché non lo capisci Perché è buio Cioè io non so Che stanza era questa Finché non vedevo il muro Capito? Tu e vado Oh mio dio Io devo seriamente fare Che dire Che dire ragazzi Mi sta capitando solo quello? Andiamo Ho tenuto d'occhio Dove era l'armadio Io lo sapevo Che succedeva qualcosa Io lo sapevo Non può leggere tutto No ragazzi Non posso leggere tutto Sono molto occupato qua Anche perché la mappa È totalmente buia Come potete vedere Quindi Cioè mi devo concentrare qui Ragazzi Ogni tanto do un'occhiata Tipo ciao Iro Ciao Liam Ma non posso guardare tutto Armadietto Ok ancora di nuovo Ancora lui C'è solo lui Vediamo se torna indietro Torna indietro Che mi sono perso Quello che sognero stanotte Nei miei incubi Ok Beghi riflessi Freddy Nelfunk Mi ha insegnato Ok Ok Anche qual era la finta Andiamo Ok Ho trovato anche questo Anche lui Siamo in 1.300 ragazzi Grazie mille a tutti Però sapete che vi dico un attimo Scusate ma Metto Due secondi in pausa E Fatemi bere qualcosa Perché sto Sto perdendo i neuroni Cioè Sto sudando Trasparente Non mi sta succedendo cosa Scusate un attimo Che c'è il succo di frutta Qua di fianco Sì Bevo No il succo di frutta Proprio spremuto d'arancia Disse tante Quale era una finta Vero? Sì Ok Con calma Ce la possiamo fare E ce la faremo Torcia Non mi abbandonare Però Allora Devo trovare una pila Non Soldi Non me lo farò neanche raccogliere Bisogno di trovare Una batteria Apprezzo i soldini Ma non è ciò che mi serve Basta Soldi Vi prego Dai una batteria Oh Perfetto Altre? No Ok Un'altra batteria Ottimo Ok Tenevo da conto Questo Nessuno Perfetto E si va avanti Perso il conto 250 200 261 Ce la posso fare Andiamo Decisi Uh Guarda Tanti soldi Ok Mi sono Refullato la torcia Molto bene Ok Lì ci sono gli armadietti Niente Qua ci sono C'è così bisogna gestirsela Capire dove sono i armadietti Nella stanza Andare avanti Non senti niente Prosegui Non ci sono Non apparirà nessuno Troppo tempo Che non capita a nessuno Guardate No Pensavo che apparisse Qualcuno Ah appare adesso Sta a vedere Che vi ho detto Sono prevedibili Sti cosi Due Color funziona Del croce fisso Non l'ho mai provato Ma Sinceramente Non voglio neanche provare Mi appena passato di fianco Mi ha tirato un occhiataccio Ci sarò sincero E il doppio Ok Ok Una pila No Il gioco Non mi sta aiutando Ora si Me la sto facendo sotto Raga Non sono mai arrivato Così in lontananza Ok La sentite Raga Ci sono più uscite Ok Era una finta Giustamente Non ho aperto Nessuna porta Ci sono più uscite Voi mi state dicendo questo Oh mio dio Vabbè Non è roba che ci riguarda Noi dobbiamo andare avanti Letteramente il gioco sta dicendo Tu sei pazzo Esci dai Te ne do un'altra No Devo andare avanti E prendermi gli infarti Ok Armadietti Sono qua 296 A 300 Raga 300 Una pila Era lì Meno male Un'altra pila Quanto raga Ma ho 2700 di soldi Fantastico Jeff Ok Ancora 700 porte Raga Ancora 700 porte Ok Uh diamanti Tipo su minecraft Una pila Perfetto Ce la possiamo fare Ok Predict di tutto Il mio cervello Ho fatto 300 calcoli In un istante In la tempistica Di quello Quello che sta arrivando E l'armadietto Dove era Ci mettere due ore e trenta Lo so Ma io farò lo stesso Perché sono pazzo Perché sono pazzo Era finta Perché non c'erano armadie Ho panicato Però non c'erano Non si vede Un accidente Ok Ok do tenere presente Che qua Non c'è bisogno Che vado giù Perché c'è di fianco Do tenere presente Sta cosa Ok Hanno donato Hanno donato Dominic Dominic vero Un euro Grazie Non avevo notato Perché ho disattivato La cosa dei suoni Perché devo sentire tutto Grazie mille Comunque Comunque Siamo in 907 Per quelli che non c'erano prima Ragazzi C'è il mio shop Le mie magliette Quanto altro L'uno e il due Io sono al Eh arrivo in i comics Al Romics L'uno e l'aprile Probabilmente starò insieme a Roby E se verrete con la Mia felpetta E la firmerò Poi dipende se arriva in tempo Ragazzi Al massimo me lo dite L'ho ordinata Ma non è arrivata Tanto firmo lo stesso Ragazzi Cioè Non è che firmo solo La mia maglietta Cosa sono Però giusto Così come ricordo Chi la vuole firmata Da me In persona La potrebbe avere Basta gli hater Li odio Perché c'è un hater Vabbè Non è che Non che mi interesse Ce la possiamo fare 322 È ma io ero un canale Solo per bambini Fai te questo Fallo te Fallo te Fallo te Fallo te Che io me la sto facendo Sotto da mezz'ora Mi saluti Ciao Gianluca Figure maschio Ma non c'è figure al momento Ma qualsiasi cosa sia Posso donare mille euro? No Mi sentirei in colpa Assolutamente no 325 E non c'è nessuno Va bene Una pila Dove ho bisogno di una pila Tra un po' Eccola Era qui nell'angolino Guarda Perfetto Per un posto opposto Aush Potessi avere un'altra Oltre a miriade di soldi No Eccola qua Andiamo Lì davanti Lo sapevo Lo sapevo L'ho memorizzato Ragazzi però Allora Niente Di ti medi Grazie Come cose Se ci sono degli Eter Lasciatevi stare Siamo partiti con 120 soldi E' vero Sono diventato Milionario Ehi Avete presente quelli che vogliono vendere le cose per diventare milionario Ecco Io Seguite me A meno quello è diventato per davvero Allora Non sto neanche raccogliendo tutti i soldini che ci sono Perché non è Non mi interessa Un'altra uscita Cioè Nei tre mesi il gioco sta dicendo Ti prego Ma esce da sto posto Sei pazzo E io invece qua ancora No ragazzi Scusate Continuare Mi sono bloccato anche la voce Ci metteremo un secolo Una pila Una No Andiamo Oh Eccola qua Ok Andiamo Ho aperto la porta Gentilissimo Ok Gli ho presi i soldi Perfetto Non lo posso neanche prendere quello Una pila Alla fine l'ho preso Un attimo Ok Mi controlando una roba Armaglietto Non ce la farò mai Ciao Martin Posso tornare al 600 euro No Raga Basta Basta darmi soldi Basta Basta darmi soldi Non date soldi Non date soldi Smettetela Datemi lo spirito santo Io paura Ho bisogno di coraggio Alzate le mani al cielo Per la Genkidama Per tirarla addosso sto postaccio Vai via demonio Ho detto via Non ritorna Ok Mi ero mosso per uscire Andrà a finire male Andrà a finire male Io me la sento che andrà a finire male Ma io me la sento Ogni porta che faccio Muoio sempre di più dentro E prendo sempre Ogni porta È un anno in meno che vivo Tu non puoi vivere mille anni Lo faccio E poi muoio Cioè Mi rincarno Che lo potrò fare E poi morirò all'istante Perché Vabbè Lasciamo stare Comunque non ce la farò mai No Non ce la posso Non ce la posso fare È impossibile per me Ci sono troppe porte Troppe porte E troppi infarti Che vuoi prendere Io avrò paura delle porte C'è una fobia Per quelli che Hanno paura di aprire le porte Cercatemela Mi prego Paura di aprire le porte Soffro di quella Molto probabilmente Non lo sapevo Finché non provo sta roba Così si scoprono le paure Dosfobia No quella è proprio paura Delle porte Una porta non mi fa paura Ma di aprirla È proprio quello Che mi fa paura Non so cosa c'è dietro Ci potrebbe essere lui Come ci potrei essere io Come ci potrebbe essere Questo deck di Yu-Gi-Oh Che mi hanno regalato I miei amici Cioè Ci potrebbe essere tante cose Dice Ai vent'anni giochi Yu-Gi-Oh Sì Ok Non più come prima Però il mio deck È sempre rimasto quello Mazzutopia per sempre Allora Non di sotto Ecco di qua devo andare Io ero anche sotto il letto No a massimo c'è il gatto Ok Sta tornando l'infame Stavo per uscire io Aprire le porte Fobia No Non può avere un nome Così facile Una fobia Non ce la farò mai Nella vita Basta Cioè non ce la farò mai Se continua così Ma siamo seri Non esiste Iro Bene Sarò il primo caso diagnosticato Quindi gli posso dare un nome Dorsfobia Dai la cosa più facile Effettivamente Proprio di Dors Perché me l'hai installata Dors Il gioco E io l'ho portata In vita reale Adesso quando dovevo aprire Quella porta Per andare a mangiare Prenderò un infarto Funzionerà così Da che parte è? 380 Di qua Ok 380 Mi ha aperto la porta Gentilmente Donde sta? Ecco Una pila Perfetto Ho visto un coso rosso Era la caffettiera Ok 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 Oh però non sto incontrando niente Adesso che l'ho detto Appare però No Apparerà ora Devo smettere di chiamarmeli Effettivamente Ancora un'uscita Apprezzo davvero tanto Gioco Che mi vuoi far uscire Da sto postaccio Ma devo Declinare l'offerta Devo declinarla Determinazione Canto una canzoncina Per non rimanere Di un infarto 400 ragazzi Posso darti un euro? Io sto pariardando Boh se si tratta di un euro Cioè raga Non me lo dovete chiedere Cioè Dopo sembra che ve l'ho chiesto io Capito? Cioè Ho fatto delle donazioni Se vi piace Quello che sto facendo E potete Lo potete fare Io vi ringrazio È l'unica cosa che posso fare Perché abbonamenti O ricompense Non l'ho mai messa Nel canale Proprio per non incentivare Questa cosa Però Apprezzo Mi offrite un caffè Letteralmente A mio che non Hanno apprezzato Il prezzo Anche del caffè Spero di no Una volta che arrivate In quella stanza Basta che spammate Sono i ramadietti Sono quasi tutti rotti Ma due o tre sono giusti Messo io Ronaldo Buffon Da piccolo Quando ho avuto un periodo In cui mi piaceva il calcio Ma Vedi Basel Il calcio Non mi è mai piaciuto Ma Boom 300 iscritti meno E Non mi è mai piaciuto il calcio Quando ho avuto un periodo Che mi piaceva il calcio Mi piaceva Mi pare che si chiamava Tevez Però se n'è andato Dalla Juve un bel po' E Buffon Anche se non ero Juventino Proprio mi piacevano i calciatori Cioè Non mi è mai interessato Il mondo del calcio Particolarmente Giocavo in Zoom Eleven Però Quello si Per Wii Ce l'avevo anche per Nintendo Inizialmente Chi di voi c'è ancora Nintendo Raga No Seriamente Qualcuno di voi sa Cosa è il Nintendo Pittò Perché è un po' vecchia Argentino Francia Sono stato in Francia Non sono mai stato in Argentina Ma ho visto che c'è un bel po' di roba bella Da visita in Argentina Quindi dico Argentina Per la curiosità Il vostro rire è uno Che ha viaggiato molto Per fortuna Anche se l'Italia È bella Sotto alcuni punti di vista Sotto altri No Ok Ho il Nintendo del 2006 Mi Quanto va in lobby Ha voglia Eh però Fobia l'ho già portata Tipo due volte Non è andato bene come video Quindi è normale Che tu non l'abbia visto In caso Io c'ho fame A quest'ora Era una finta Ok Ok Era finto Stavo tiltando Era finto Ho creduto seriamente Che fosse vero Perché poco dopo Ho aperto la porta Ma ste porte seriamente Sembrano non finire mai Ciao Marco Se vuoi dopo ti posso dare una mano Eh ma non è questione di dare una mano Apprezzo eh Apprezzo Però non è una questione di dare una mano Poi è una questione di Tempo Secondo me Personalmente i mostri Sono sempre quelli E quindi non è che cambia Chissà quanto Però Anzi forse Due solamente Più pericoloso Perché mancano di più Gli armadi Ok Eh Come ho già detto È molto questione Di sapere Dove sono I Gli armadietti Come seconda cosa Come prima cosa Cosa fanno Le entità nuove Ok Possiamo proseguire Ok Era finto In caso vi annoiate Potete anche tornare più tardi Magari Magari quando sono più vicino Guarda quanti soldi Seriamente il mio telefono Si sta scarcando Cioè un attimo Scusate Ok Ho diminuito la luminosità Dovrebbe durarmi di più Il telefono Perché il mio secondo schermo Dietro front Allora Se il mio video Non lo apprezzo Ragazzi Una volta che mi sono scaricato Il telefono Non potrò più Guardare la chat Effettivamente Anche ci penso 442 444 444 444 444 Ragazzi Una paura matta Io non posso continuare così Era finto Ok Ok Molto bene Un'altra pila Grazie Infatti fanno paura Le rooms Grazie Mi saluti Ciao Mario Stava scorrendo la chat Non ho fatto in tempo a leggere Quindi ho messo un po' di tempo a decodificare Eccolo questo è vero Non oggi a 90 Non oggi Puoi portare Blocks Fruit Allora Blocks Fruit Sì In realtà È già in lista Un pochino più in giù Però è in lista ancora Da rifare Forse ci porta anche Kai Non lo so 465 Non posso crederci Che lo sto facendo davvero Andare avanti Ma come minimo Mi danno un'altra uscita Dove è il nascondiglio Qua Dove era il nascondiglio Dove era l'armadio Non c'era lì dentro Ho detto Torno indietro Il crocifiso non fa niente Dai Non posso crederci Aspetta Forse posso respawnare No Troppo in là No raga Dove era l'armadio Dove cavolo era L'avete visto Mi è passato sotto Mi è passato sotto l'occhio Non l'ho visto C'è Yusef No raga Io non posso ricominciare da capo Posso farci un video Se volete A parte Ma non lo posso fare adesso di nuovo Sono anche le 19 Cavolo Cioè da quanto tempo è che siamo in live Scusate Ah non me lo indica qui Perché me lo indica Vabbè comunque da tanto Cioè mi Da un'ora Da un'ora e mezza Non posso crederci raga Eeeh Non c'è molto che posso fare al momento Non credo di poter continuare Sono morto malamente Ho fatto del mio meglio Eeeh Nulla Faccio anche giocare ancora Ma Non continuo raga Ci ho creduto fino all'ultimo C'è un'ora e mezza